Un saluto a tutti gli iscritti di Motori Online! Siccome oggi è lunedì, come sempre, io sono The Zapper ed oggi sono su questo canale per portarvi un video di curiosità sul mondo delle automobili. Oggi andremo a scoprire le 10 auto che hanno praticamente fatto la storia partendo dai primi modelli fino ad arrivare a dei progetti che hanno praticamente rivoluzionato il concetto classico di automobile. Ma comunque non perdiamoci in ulteriori chiacchiere e partiamo subito con il video di oggi. Benz Motorwagen Partiamo dal principio, con l'inventore delle moderne automobili. Infatti il primo uomo a progettare un'auto con motore a scoppio fu proprio Carl Benz e la sua piccola oggi non sembrerebbe neanche una vera e propria auto con una barra curva al posto del volante e solo tre ruote. Tuttavia il suo motore da 954 cm3 e meno di un cavallo di potenza ha reso possibile la creazione di tutte le automobili che utilizziamo oggi. Ford Model T Questa vettura entra di diritto nella classifica delle macchine che hanno cambiato la storia perché tutta la produzione di massa delle auto deriva dalla linea di produzione concepita da Henry Ford per la Model T appunto. Prodotta nel 1908 fu la prima vettura ad essere prodotta in grande serie utilizzando proprio la tecnica della catena di montaggio. Mini Questa piccola vettura debuttò nel 1959 ideata per contenere gli ingombri ed i consumi. Fu la prima ad accoppiare la trazione anteriore con un motore trasversale dimostrando quali risultati si potevano ottenere. Grazie alle sue dimensioni compatte, allo spazio sufficiente a quattro persone e ad un'esperienza di guida eccitante è risultata un modello economico, pratico e molto divertente da guidare tanto da diventare un'icona ai giorni nostri e crescendo notevolmente sia riguardo alle dimensioni che al prezzo. Tesla Model S Le auto elettriche sono state relegate per decenni in fondo all'industria automobilistica derise per le loro scadenti performance e per il design quasi comico finché la Tesla Motors ha rivoluzionato questo concetto offrendo una vettura moderna, veloce, pratica e stilosa. Da quel momento in poi l'auto elettrica è divenuta il nuovo simbolo dell'alternativa eco-chic al carburante fossile. Lamborghini Miura Riconosciuta come la prima macchina sportiva motore centrale a trazione posteriore la Lamborghini Miura ha rappresentato per molte case automobilistiche il modello di ciò che oggi chiamiamo supercar. Fu anche una delle prime vetture dal design spettacolare aprendo la strada all'idea che l'automobile non dovesse essere solo una necessità ma anche e soprattutto un oggetto del desiderio. Toyota Prius Amata e odiata in ugual misura, la Prius è stata la prima macchina ibrida da produzione di massa lanciata sul mercato nel 2000 e alla fine del 2003 ne erano già state vendute 160.000 tra Giappone, Europa e Nord America. Nonostante le iniziali critiche per la presenza di due motori che ne aumentano peso ed ingombro per la lentezza in partenza dato che si avviava con il motore elettrico gli ingegneri giapponesi non si sono scoraggiati ed è arrivata alla sua quarta serie e oggi quasi tutte le più importanti case automobilistiche annoverano auto ibride nella propria offerta. Range Rover Sebbene il Range Rover non sia stato il primo veicolo fuoristrada immesso sul mercato è stato però il primo ad essere arrivato alle persone in numero considerevole fu infatti il primo 4x4 acquistato in massa aprendo di fatto la strada ad una delle auto più di moda oggi sul mercato e cioè il SUV E quindi spero che anche questo video sia stato di vostro gradimento in tal caso non dimenticate di lasciare un mi piace e soprattutto di iscrivervi al canale di Motori Online Inoltre, come sempre, ricordate di farmi sapere nei commenti cosa ne pensate del video che avete appena visto e soprattutto se voi conoscete degli altri modelli di automobile che secondo voi hanno completamente rivoluzionato il mercato Potrei magari utilizzare i vostri suggerimenti per inserirli in un prossimo video e quindi penso che anche per oggi siamo detti tutto e noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo video